Ad Euractiv sta molto a cuore lo Stato di diritto. È un tema a cui abbiamo dedicato una sezione e cui prestiamo molta attenzione. E proprio per questo oggi vorrei fare una riflessione e in qualche modo una proposta. Noi stiamo assistendo all'erosione dello Stato di diritto in alcuni stati dell'Unione Europea, in particolar modo in Polonia ed Ungheria. E finora l'Unione non ha saputo rispondere, anche perché le procedure per rispondere prevedono l'unanimità tra tutti gli altri Stati membri rispetto allo Stato sotto attenzione. E quindi la Polonia mette il veto a difesa dell'Ungheria e l'Ungheria a difesa della Polonia, impedendo qualunque forma di sanzione dei loro comportamenti da parte dell'Unione Europea. Ecco quindi che bisogna riflettere sulla trasformazione e la modifica delle regole che oggi regolano la capacità dell'Unione di rispondere, ma forse vanno trovate anche soluzioni più fantasiose e immediate come l'apertura di una procedura di infrazione comune a Polonia e Ungheria che permetterebbe di decidere sulla base dell'unanimità degli altri Stati membri senza dare la possibilità a questi Stati che stanno così flagrantemente violando i principi fondamentali dell'Unione Europea di spalleggiarsi a vicenda e di farsi beffe di tali principi e valori che sono la base della costruzione comune.